Secondo una ricerca, più è vecchio il padre nel momento che ha un figlio e più il figlio sarà brutto Ma dai, ma come? Quindi se il papà è vecchio nel momento che fa il figlio, il figlio è brutto quando nasce Quindi, vabbè, allora, prendetevi un papà giovane, così il figlio è bello Quindi mi raccomando, prendetevi un papà giovane A sto punto, prendetevi, donne, prendetevi un papà giovane Perché se il papà è molto vecchio nel momento che nasce il figlio, il figlio è più brutto se il papà è molto vecchio Quindi prendetevi un papà giovane, eh? Ciao da bimbo bell Questa è una ricerca, una ricerca Allora, questa è una ricerca Lo dicono loro, è una ricerca Eh, lo dicono loro Ciao